a sala big match di giornata il giorno di derby tra i padroni di casa che ospita il bacchia cessenatico tra le pretendenti a ben figurare in questo campionato a fare un pensierino almeno alla vigilia del torneo alla vittoria finale entrambe le compagni arrivano a due successi con i bacchia che ha infitto la prima sconfitta la contrata stela e sala che ha ottenuto i passi tre punti in casa di bellariva abita la gara jose daniel migliori della sezione di imola prima del calcio d'inizio scatto fotografico e premiazione per l'ex trainer del sala bartolini festeggiato dalla vecchia società con tanto di ringraziamento per una delle più belle favole vissute assieme la gara con le immagini a qua di giacolo alpini vede il protagonista subito il sala il tiro del neo arrivato zavalloni viene respinto da fabbri la repica dei bacchia affidata all'appoggio dei bandieri in favore di zekira conclusione centrale bacchia che insiste questa volta dalla fascia opposta alla precedente traversone per la volia di mazzarini che trova urbini pronto alla presa dalla bandierina sponda di testa di fiaschini per marapodi che in girata mette fuori ma proprio da marapodi arriva il vantaggio spaccata per i bacchia cessenatico bravo i difensori a correggere in rete una punizione dei compagni dando il vantaggio agli ospiti la punizione velella per il sala alza la mira più incisivo gamba corta conclusione sventata in corner da fabbri e sul fine di tempo l'ultima chance a cura di fiaschini ma la sfera termina alta nella ripresa il sala parte forte grande azione composta gamba corta milzone zavalloni i tre timbrano il pareggio con azione manovrata conclusasi nel migliore dei modi tra gli applausi del pubblico presente ristabilita la parità in campo con tanto appunto di meritato applauso per i giocatori rosso blu che festeggiano la rete la replica dei bacchia cessenatico affidata due colpi di testa nell'ordine prima con abbondanza poi con carrozzo entrambi di uguale esito da una parte dall'altra tentativi di via dei gol alla cura di gamba corta e qua ita non ha da fare nei finali sala crea le occasioni più limpide del match gol a parte il colpo di testa di marrone si perde alto infine clama rossa l'occasione capitata sul piede caldo di milzone pallone alto termina qui una gara che accontenta alla fine ambedue le compagini un punto che muove comunque la classifica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti